Salve a tutti i maledetti. Donazioni, donazioni, donazioni. Donazioni su YouTube, donazioni su Twitch, donazioni sul Patreon. Ognuno che ha un modo di intendere la donazione diversamente da un altro. Allora, chiariamoci, tecnicamente una donazione, una qualsiasi donazione, è semplicemente il dare un proprio bene a qualcuno. Il tutto in completa libertà. Quindi partiamo dal presupposto che nel momento in cui una qualsiasi persona si sente di fare una donazione ad un'altra persona, per qualunque motivo il passaggio di bene, che può essere cibo, oggetti, denaro o quello che volete, diventa lecito. Dici, allora è finita così? Eh, tecnicamente sì, ma. Ma in questa sede io parlerei di qualcosa che sia ben chiaro, è sia, come già detto, totalmente lecito rispetto alla possibilità di farlo, ma in ugual modo opinabile riguardo il modo con cui viene fatto. Le critiche sono sempre le solite, attenzioni, donano i bambini, magari hanno l'account collegato con il PayPal dei genitori e fanno ingenti donazioni, prendendo i soldi da loro. La mia risposta rispetto a questo argomento è sempre la solita, eh. E quindi, se i genitori lasciano l'account di PayPal perché pensano che il Pargolo sia incapace di usarlo, sono problemi loro. Se non educano il loro figlio perché è molto più semplice lasciarlo abbrucare merda da quell'enorme pascolo che è internet, beh, qualcuno direbbe, te sta pure bene. Quindi, appurato che non trovo sia questo un problema, qual è il problema? Almeno dal mio punto di vista, quindi ripeto, questa parte totalmente opinabile e risponde del giusto e dello sbagliato in base alla propria etica, opinabili sono rimasti due aspetti, il perché e il modo nel quale ti fai donare qualcosa. Le due cose sono in stretta correlazione tra di loro, ma andiamo con ordine. Il perché è il motivo principe per il quale una persona ti dona dei soldi. Appurato che io trovo lecita ogni tipo di donazione, è abbastanza ovvio che la differenza sta nella definizione della stessa. Per dire, vogliamo parlare di accattonaggio? Cosa è accattonaggio, per usare un termine delicato appunto, è stare su di un portale in live a farsi donare a buffo, senza né avere un progetto di base e né offrire nulla. Riguardo l'offrire nulla, ce la sbrigiamo con un se la stessa live è un format di intrattenimento, come potrebbe fare un sabbaku, stai già offrendo un contenuto per il quale ti stanno donando, è buona così. Riguardo invece il progetto, nel momento in cui tu dici a chi ti segue che quei soldi servono per una causa superiore, creare un format, fare qualcosa di super magnifico e favolosissimo, magari estremizzando anche fuori, per dire, nel mio caso o nel caso di altre persone, spettacoli di stand-up, i teatri costano, la CIA costa, tutto l'ambaradan costa, quindi il farsi donare per sostenere il lavoro di creazione di un progetto come un tour o altro è essenziale, ed in questo momento in Italia è evidentemente molto più semplice la donazione del non aprire un crowdfunding, proprio per come viene percepita, ma appunto si mette agli atti che c'è una differenza abissale a livello di percezione tra un crowdfunding ed una donazione rispetto appunto al rapporto tra chi dona e chi riceve. Nel momento in cui io ti sto donando senza un progetto concreto per il quale so di star donando, io utente, io donatore, mi aspetto qualcosa per me. Io mi sento in diritto di pretendere cose che mi piacciono, cosa che non accade quando tu ti fai donare già per un progetto prestabilito, dove in realtà non c'è neanche una donazione, ma un acquisto di un prodotto. Se hai mille donatori, ogni donatore si aspetta qualcosa che piaccia a ciascuno di loro. È una differenza enorme e pericolosa potenzialmente il diventare schiavo di chi ti segue, perché tendenzialmente non prendiamoci per il culo. Una volta che il mio supporto economico deriva da tot persone, scontentare una sola di queste vuol dire perdita di denaro. Punto. Aprirò mai un Patreon? Aprirò mai le donazioni? Non ne ho idea, ma sono cosciente che ci sarebbe un enorme pericolo in relazione alla libertà e dalle aspettative. Potrebbe modificare il modo nel quale creo contenuti per fare contenti chi mi segue? Non ne ho idea, ma è un'opzione, un problema che esiste. L'ultimo argomento era l'approccio, ma vabbè, dire che lo faccio per voi, facciamolo tutti insieme, abbracciamoci forte forte, siamo tutti amici, grazie a voi sono libero come una farfallina, è un argomento che lascio a tempo che trova, è marketing, lo capisco, lo accetto, è come per la pubblicità, è una pubblicità che punta sull'amore, lo guardo, mi faccio una risata e passo oltre. Soprattutto perché se domani viene una persona da me e mi dice senti, per questi eventi sull'arte ti sponsorizzo io e ci metto per 10 date 50.000 euro, ma accetto, a chi vogliamo prendere per il culo? Posso assicurarvi che le persone che vi dicono di no, che non accettano queste cose, sono persone alle quali non è stato mai offerto nulla e così sono tutti buoni. Quindi una volta appurato l'opinabilità etica dei comportamenti di chi chiede soldi in cambio di qualcosa e soprattutto, come ho già detto, nel modo e nel perché tu chiedi soldi, c'è solo da parlare con l'altra parte, gli usufritori. Ragazzi, donate, supportate, seguite, andate agli eventi, fate di tutto per far continuare a vivere ciò che più vi piace, perché è giusto che sia così, è essenziale, ma pretendete sempre e dico sempre un contenuto o un progetto concreto per i soldi spesi e non pensate che chi ve li chiede lo stia facendo per voi. Vi prego, bello a tutti e statemi discretamente bene. Il vostro DiClave. Grazie a tutti. Grazie a tutti.